Due alberelli in carta semplici e divertenti da realizzare, ti spiego come. Prendi un foglio e rotolalo in questo modo formando un cono e poi incolli i lati. Ora taglia l'eccesso ed ecco la tua base! Prepara delle striscioline di carta e tagliali in questo modo. E infine inizia a incollarle dalla base fino alla punta sovrapponendole. Ricorda di piegare leggermente le frange per un effetto naturale. Idea 2 Per un risultato ancora più sostenibile, conserva un rotolo di carta igienica e utilizzalo per creare la base del tuo alberello. Al posto della carta puoi riutilizzare dei pirottini per dolci. Tagliali in questo modo formando le striscioline e poi inizia a incollarli dalla base alla punta sovrapponendoli. Ed ecco pronto in due minuti anche il tuo secondo alberello. Potrai utilizzarli per la decorazione dei tuoi doni e della tua casa o realizzare fantastici paesaggi natalizi come questo. Grazie. 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 Grazie a tutti.